Lei ha parlato con un prigioniero iracheno, quell'intervista forse spiega meglio di tante analisi accademiche di questa guerra. È vero, quando io parlavo ora pensavo addirittura a questo prigioniero iracheno che aveva avuto la fortuna di incontrare nel Kuwait. Un'intervista straziante dall'altro perché era trafitto da 12 pallottole, da una raffica, gli avevano sparato quelli della resistenza, cosiddetta resistenza. Mentre lui si arrendeva, non si fa. Come ti guardo? Sono mica il lupo? Lasciamo perdere, questo è un argomento che affronteremo più tardi. Il sesso inutile è evidentemente un paradosso, è un po' una buttade, non del tutto però. Io ho cercato di spiegare nel libro cosa intendo. Tu lo hai spiegato nella prefazione, che è quella cosa che si scrive dopo, si mette prima e non si legge né prima né dopo. Quindi sarebbe bene che tu lo spiegassi così davanti ai telespettatori forse. L'avevo detto io. Che cosa? Si cominciava con le cattiverie. Ma che cattiverie.